Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Ci siamo ritrovati qui questa sera per incontrare uno scrittore giovane, che è qui alla mia sinistra, che si chiama Paolo Di Paolo e che malgrado la giovane età è già molto affermato perché ha scritto molto, ha scritto libri, romanzi, libri per ragazzi, libri di altro genere, scrive abbastanza regolarmente editoriali sul giornale su Repubblica, scrive per il teatro, stavamo parlando prima che un suo lavoro, una sua opera dovrebbe arrivare qui a Roma verso il mese di maggio al teatro argentina e quindi diciamo che è uno scrittore estremamente interessante, a cui naturalmente auguriamo una carriera ancora più prestigiosa di quello che già ha fatto. Chi lo presenterà, lo introdurrà, è l'amico qui Sandro Dell'Orco che voi già tutti conoscete, scrittore anche egli, critico letterario, già responsabile del Dipartimento per la diffusione del libro presso il Ministero dei beni culturali e qui a Roma, quindi nostro amico di 50 e più per cui ha curato ricerche, libri, eventi di ogni genere e che con grande pazienza si dedica anche a noi per l'organizzazione di questi eventi. Io direi che a questo punto ci conviene dare la parola direttamente a Sandro Dell'Orco che ci parlerà dell'autore e poi l'autore stesso ci parlerà di lui, di quello che fa, di quello che scrive e di quello che pensa di fare anche in futuro. Prego Sandro. Allora, iniziamo così. Paolo Di Paolo è stato già presentato in maniera molto sommaria dal nostro Presidente, ma non vorrei perdere troppo tempo a enumerare le opere che già ha scritto, che sono molto numerose. Tenete conto che è nato nell'83 a 34 anni e ha all'attivo, mi pare, quattro romanzi e diverse opere saggistiche di letteratura, opere teatrali ed è giornalista, professionista praticamente, presso Repubblica dove collabora le pagine culturali. Quindi a 34 anni ci sembra veramente una cosa eccezionale che tutte queste cose importanti, di grosso impatto, quindi a livello della cultura italiana, facciano riferimento a un giovane di 34 anni, il che insomma già la dice lunga sulla persona. Però qui stasera non dobbiamo esaminare la sua opera complessiva, anche se è un'opera fittamente intrecciata, cioè tutti i volumi che ha prodotto sono fittamente intrecciati, e poi dirò brevemente perché, anzi lo dico immediatamente. Tutta questa produzione ha per mira la realtà che noi viviamo, cioè meglio, l'attualità, il presente, il momento che noi viviamo. Si direbbe quasi che il telos di tutta la sua attività culturale, declinata in maniera molto diversa, appunto giornalismo, appunto saggistica, appunto teatro, narrativa, ha questo filo rosso, questo denominatore, che è la passione nei confronti dell'attualità, del reale. Cioè cosa preme al nostro autore? Preme un confronto, una presa diretta con l'attualità, però non a livello della descrizione superficiale della cronaca, tanto per capirci, no? Come può fare un giornalista di costume, o anche un recensore di libri di narrativa, no? Qualcosa di molto più profondo. Lui ingaggia una lotta con la realtà. Lui ingaggia una lotta con la realtà sociale, politica, economica e culturale del nostro paese. Questo lo fa a tutti i livelli. Questo prendere sul serio la realtà per tentare di spiegarla, in questo momento qui, io direi che è un atto pressoché eroico. Eroico nel senso migliore del termine. Cioè, la realtà che noi viviamo, e questo nei libri di Di Paolo viene fuori in maniera eccezionale, è una realtà disgregata, assolutamente disgregata. Gli assoluti sono tutti crollati. E nonostante, quindi, non esista un sistema di riferimento complessivo in cui orientarsi, Paolo Di Paolo è uno dei pochissimi scrittori che insiste a voler cercare di capire quello che sta succedendo. Faccio un altro esempio. Nel campo della narrativa, questo tentativo di capire quello che sta succedendo è qualcosa di completamente fuori moda. Ma direi anche nelle altre arti. Cioè, l'arte ha, come dire, dimenticato il compito di comprendere la realtà, almeno nella narrativa, per esempio, nell'Ottocento. Già con i primi del Novecento si è spostato su un altro livello, che è quello dell'espressione del sé, della soggettività, e ha rinunciato a capire la realtà. Faccio un esempio. Dostoevsky è un uomo che ha giocato tutta la sua vita nel descrivere l'interiorità dell'essere umano, la sua psicologia. Ecco, quindi ha cercato di far emergere, e così Dostoevsky, per esempio, ha citato due russi, ma potrei citarne tanti altri. Con l'Ottocento c'è una frattura. Non si cerca più di spiegare la realtà perché è troppo complicata, troppo difficile, a livello delle scienze succedono cose stranissime, e quindi anche l'artista si sposta, questo anche nelle arti visive, nella pittura, nella scuola, si sposta sul soggetto, come espressione di sé. Paolo Di Paolo non ci sta. Diciamo, ecco, tanto sono stato pregato di avere un linguaggio molto terra-terra, ecco, Paolo Di Paolo non ci sta a questo. Paolo Di Paolo si dà. Come scopo principale la spiegazione del reale. Nonostante esistano teorie politiche frantumate, nonostante la religione è un assoluto che oramai non solo non va più di moda, ma è seguito sempre meno, e nonostante la vita politica sia quella che sia, che tutti conosciamo, non c'è bisogno. Lui dice, si intestardisce e continua. Questo in tutte le sue sfaccettature. Ma veniamo al romanzo e ai romanzi. Prima di arrivare a quello di oggi vorrei affrontare quelli precedenti. Ne considero due. Nel primo romanzo abbiamo il tentativo da parte di un adolescente, di un giovane, di comprendere il marasma che vive. Cioè lui entra nel personaggio adolescente e cerca di rivivere come adolescente tutti i segnali contraddittori che gli arrivano dalla realtà. Cioè pensate ai segnali che potevano arrivare a un giovane dell'Ottocento. Erano uniformi, chiari, devi fare questo, questo, questo e questo. E anche agli inizi del Novecento la famiglia era ordinata in un certo modo, la religione dava indicazioni morali. Oggi non c'è più niente di tutto questo. E in questo romanzo molto bello Dove eravate tutti lui si sforza tremendamente anche in maniera quasi risibile a volte, ma risibile non è il termine giusto, umoristica nello sforzo impotente di ordinare quello che gli sta succedendo. E Dove eravate tutti appunto questo sforzo di un soggetto che cerca di capire di capire per poter indirizzare se moralmente, per sapere quello che deve fare. Viene affrontato Dove eravate tutti con un io narrante, cioè una voce narrante di prima persona. Perché questo? Perché la prima persona? Perché il personaggio non è capace di ordinare il mondo, sta cercando di ordinarlo e quindi evidentemente narra, vede la realtà filtrata dalla propria sensibilità, non ha dei quadri concettuali che gli permettono di unificare il tutto e quindi è una scrittura possiamo dire soggettiva, espressionistica se vogliamo, nella sua sostanza, perché poi non arriva a nulla, però quando l'abbiamo letto abbiamo di fronte non la spiegazione di una realtà, ma la spiegazione di come questo ragazzo vede la realtà. questo è il primo punto poiché come dicevo prima Paolo Di Paolo mira a una descrizione oggettiva della realtà sia come scrittore che come persona si sposta, va avanti, nel romanzo successivo cerca di creare il romanzo successivo vedete bene è un romanzo tra virgolette storico perché parla di Piero Gobetti, non parla di Piero Gobetti, narra una storia che si incrocia con quella di Piero Gobetti però qui proprio perché l'intenzione è di voler catturare la realtà con una rete che possa spiegarla viene assunta la terza persona classica la persona cioè il romanzo dell'ottocento in cui c'è egli andò egli pensò egli fece questo quindi viene assunta una posizione che tende a creare il mondo che lui desidera cioè una comprensione onnisciente del mondo ma come è stato detto da alcuni critici di questo romanzo tutto questo riesce e non riesce spiegarne le ragioni sarebbe lungo diciamo ma passiamo al romanzo di oggi il romanzo che vi è stato distribuito e che e che appunto arriva dopo questi due che l'hanno preparato nel terzo romanzo lui si propone l'autore si propone qualcosa di estremamente difficile cioè di spiegare l'amore una storia d'amore però in maniera oggettiva cioè non come come un lirico che fa una poesia esprime il proprio innamoramento e e lì finisce la cosa lui si è espresso il lettore vibra all'unisono con lui e la poesia ha avuto successo no la sua intenzione che è sempre un'intenzione di spiegare anche diciamo che lui è una sorta di divisione omerica epica cioè se io scrivo io devo scrivere per far capire a te quello che sta succedendo intorno a te nella tua realtà ecco siccome lui continua ad avere questo questo tipo di impostazione la vuole applicare anche a una storia d'amore quindi ha bisogno di partire con un punto di vista oggettivo cioè con la terza persona e in effetti parte con la terza persona partire con la terza persona significa raccontare una vicenda dal di fuori della vicenda stessa ma per dichiarata e limpida confessione dell'autore in due interviste ho fatto una bella ricerca sì in due interviste lui dice ma io sto romanzo non lo volevo cominciare da dove vedete voi che comincia comincia a pagina 30 cioè se voi sfogliate a sto romanzo a pagina 30 c'è il vero inizio cioè l'inizio cronologico cioè lui si è messo a scrivere questo romanzo e a pagina 30 ha cominciato ha cominciato evidentemente è andato un po' avanti però una bella notte però ce lo racconterà meglio lui si sveglia e vede che le cose non possono funzionare sta terza persona cioè questa smania sua di creare una visione oggettiva della realtà attraverso l'arte letteraria attraverso la letteratura non risponde a quelle che sono cioè non gli riesce in sostanza allora è costretto a fare marcia indietro al suo primo tentativo che dove eravamo tutti che ho descritto prima cioè all'adolescente che invece di di spiegare il mondo cerca di spiegarlo dal suo punto di vista che è l'unico possibile oggi oggi ognuno di noi non ha gli strumenti per dire una storia d'amore ha questo sviluppo perché io posso entrare nella mente di una persona poi nella mente di un'altra parlare e e e immedesimarmi in tutti tener conto delle forze sociali economiche psicologiche politiche che incidono su questi due è un casino non ci riesco lo potevano fare all'ottocento io non ci riesco più benissimo torna indietro alla prima persona notate bene aveva già cominciato con la terza torna indietro con la prima io vi sto raccontando quello che c'è nel laboratorio suo capito? ecco torna indietro nella prima e si inventa un personaggio narratore perché un personaggio narratore vede le cose dal suo punto di vista e non dal punto di vista di Dio che spiega tutto è più umana questa cosa però e qui mi avvia la conclusione perché non voglio rubare troppo tempo questa cosa confligge dentro di lui con la sua ansia di oggettività perché è vero che per andare avanti con il romanzo ha dovuto assumere la prima persona ma la prima persona è un tradimento rispetto alla voglia di spiegare tutto e allora a questo punto e qui secondo me c'è la genialità di questo libro e non vi voglio ovviamente rivelare in cosa consista la genialità c'è un cup di teatro come si dice comunemente cioè c'è una trovata viene preso esce fuori dal cappello del prestigiatore un coniglio e con questo coniglio diciamo così il problema la contraddizione in cui si è posto viene risolta cioè non viene risolta ma allora che significa tutto questo significa una cosa sola che lui afferma mentre afferma la necessità di avere una terza persona connisciente che spieghi a tutti noi il nostro presente nella misura in cui è solo un cup di teatro evidentemente la nega quindi in questo affermare e negare però lui continua a scrivere mi fermo qui grazie sentiamo allora cosa c'ha da dire su questa presentazione su come lui vuole presentarsi direttamente l'autore bene intanto grazie dell'occasione ed è particolare come occasione perché effettivamente il libro questo libro che voi avete tra le mani è uscito da un po' di tempo tanto è vero che questa è una versione tascabile recente ma il libro ormai è di circa due anni fa che significa che l'ho elaborato che ci ho lavorato ancora un po' prima e anche se non sono tanti nella vita forse né di un essere umano e tantomeno di uno scrittore due o tre anni in realtà rispetto poi a come la creatività e come i nostri progetti ci spingono avanti mi sembra un'altra era geologica perché quell'officina che lui ha cercato di mettere in evidenza è un'officina che evolve e evolve dentro le contraddizioni come giustamente diceva Sandro credo di poter rispondere non tanto avallando le sue ipotesi perché credo che siano legittime in quanto quelle di un lettore di un critico di uno scrittore non so dire meglio è ovvio che quando uno scrive crede di sapere qualcosa in più in realtà sa sempre meno di chi legge il romanzo si chiarisce quello che scriviamo si chiarisce soprattutto quando qualcuno ci restituisce un'emozione una chiave di lettura però posso dire che ho sempre l'impressione di un fallimento e questo non è come dire falsa umiltà o falsa modestia è proprio la conferma di un rapporto con la realtà mi è piaciuta questa espressione che ha usato Sandro prendere sul serio la realtà non puoi che prenderla sul serio se vuoi scriverne forse secondo me anche se vuoi viverla dovresti prenderla abbastanza sul serio e questo chiaramente è un ufficio che credo sia assolutamente inaggirabile ad uno scrittore anche fosse uno scrittore comico è tenuto a prendere sul serio la realtà però di fronte alla realtà comunque qualunque cosa tu scrivi è un fallimento questo fallimento può essere un fallimento riuscito e questa è un'espressione contraddittoria che però ha a che fare con un racconto di uno scrittore che tutti avrete sentito nominare che si chiama Henry James uno scrittore americano è una delle cose che mi hanno più impressionato nella mia formazione un racconto che si chiama La mezza età in cui c'è uno scrittore ormai affermato molto affermato uno scrittore diremmo di successo anche se era una società pre-mediatica o comunque non assimilabile a questa e in un momento di villeggiatura questo scrittore legge qualcosa un suo lettore misteriosamente lo riconosce e tutto il tempo della villeggiatura cerca di studiare che cosa sta leggendo questo scrittore anche con la curiosità che avremmo noi se ritrovassimo non so in un albergo uno scrittore che amiamo vorremmo sapere che cosa sta leggendo lo studia lo spia e si accorge che quello che sta leggendo lo scrittore è un suo proprio libro cioè lo scrittore sta leggendo se stesso e ha una matita in mano e corregge anche con una certa stizza sulla copia già stampata del libro e c'è questo dialogo finale che è straordinario in cui il lettore chiede conto allo scrittore dice ma che senso ha e lui dice come che senso ha il punto è proprio questo questo libro è un fallimento e io sto cercando astrattamente di avere una seconda occasione per renderlo migliore per perfezionarlo ma in realtà di occasioni potevamo averne solo una dice perché può essercene soltanto una allora poi conclude con questa espressione quasi proverbiale diamo quello che possiamo facciamo quello che diamo quello che abbiamo facciamo quello che possiamo il resto è la follia dell'arte ecco io credo che sia questo il prendere sul serio la realtà da scrittore sapere che sei comunque votato al fallimento rispetto alla restituzione di una complessità e nel corpo a corpo con la spia del fallimento che vedi sempre lampeggiare se sei davvero uno scrittore onesto tu trovi un risultato che della realtà restituisce forse per lampi anche soltanto così per un'intuizione per un dettaglio qualcosa di quella complessità le strategie che tu metti in campo possono essere diverse quindi anche quelle puramente narratologiche cioè scegliere una prima persona una seconda persona una terza persona sono tutti stratagemmi per cui rimetti in moto qualcosa sperando di fare meglio di dire qualcosa in più nello specifico di questo romanzo è vero quello che ha raccontato Sandro cioè io volevo dopo aver scritto un romanzo come Dove Eravate Tutti che è una storia di famiglia sul fondale degli anni zero dei cosiddetti anni zero cioè il primo decennio del nuovo secolo ed è ambientato in Italia quindi ha a che fare molto anche con la temperatura politica di quel decennio Dove Eravate Tutti era stato letto è uscito nel 2011 ed era stato letto come un libro politico anche se lo è solo in parte un libro che poneva una domanda anche politica dove eravate tutti una specie di richiamo alla responsabilità retroattiva quanto meno visto che non è possibile richiederla attivamente mi ero spostato dal presente andando a cercare una storia negli anni venti quella appunto di questo intellettuale antifascista che muore ventiquattrenne uno non se lo ricorda mai ma Gobetti che è stato uno degli intellettuali più straordinari del primo novecento italiano è morto non avendo compiuto ancora venticinque anni e quello che mi attraeva non era soltanto la sua militanza politica la sua lotta contro il fascismo era proprio invece la sua giovinezza la febbre della sua giovinezza e allora andando lontano cercavo di capire qualcosa del presente ecco perché è giusto dire non è un romanzo storico un romanzo storico è un'operazione di restauro di recupero un romanzo ambientato negli anni venti è un romanzo che comunque vuole sempre essere scritto al presente letto al presente e lì quello che volevo fosse letto al presente era una certa come dire cupa percezione della realtà soprattutto dall'ottica dei ventenni io l'ho scritto quel libro che non avevo ancora compiuto 30 anni e mi sembrava di poter dire che c'era nella temperatura complessiva della mia generazione un senso quasi di asfissia di rinuncia di desolazione di delusione profonda e la figura di Gobetti mi sembrava quella di chi reagiva dentro un tempo ben più cupo ben più radicalmente problematico reagiva con uno slancio che poi naturalmente fallisce fallisce anche drammaticamente ma non era importante il fallimento esistenziale o addirittura una fine così drammatica era importante la quantità d'energia che quell'uomo giovane era stato in grado di mettere in gioco e dopo aver fatto questi due esperimenti ho detto adesso scrivo un libro sul presente quindi non sullo ieri sull'altro ieri non su un tempo remoto ma sull'oggi tanto che questo romanzo che avete tra le mani è ambientato nel 2013 quindi letteralmente l'altro ieri e scrivere un libro ambientato nel presente sembra la cosa più semplice in realtà è la cosa più scivolosa perché ti puoi troppo fidare dell'attualità tu hai parlato di passione dell'attualità e in questo mi riconosco molto anzi ti dirò di più che temo di essere perfino troppo appassionato all'attualità e la parte giornalistica del mio lavoro è in realtà proprio l'irresistibile richiamo dell'attualità cioè per me in fondo scrivere sui giornali è un modo per saziare questa passione dell'attualità ma un romanziere uno scrittore deve sapere anche prendere le distanze dall'attualità cioè trattarla in un modo diverso da come la tratta un giornalista il che non significa metterla su un piano gerarchico meno importante significa semplicemente pensare che scrivere un romanzo significa proiettare quella dimensione d'attualità su un orizzonte appena più lungo non è questione di ambizione è proprio questione di necessità devi prendere un pezzetto d'attualità e vedere se questa cosa è leggibile appena oltre quel tempo in cui è stata fotografata l'attualità appunto trascritta allora avevo bisogno di un sentimento che fosse quello più se vuoi imperituro eterno se volete anche scontato se volete anche ovvio che è appunto l'amore una storia d'amore che comincia ogni scrittore scrive almeno una volta nella vita ma secondo me la scrive venti volte cinquanta volte sempre nascondendola una storia d'amore perché è una delle come dire molle esistenziali più decisive ma forma d'amore poi non intendo soltanto quella adolescenziale giovanile intendo dire insomma storie un romanzo è sempre la storia di una passione per qualcosa di un amore per qualcosa e il titolo che avevo scelto in fase di elaborazione che poi è rimasto quello definitivo gioca un po' su questo anche ironicamente una storia quasi solo d'amore cioè scrivere una storia che fosse una storia d'amore ma che non fosse solo una storia d'amore aggiungo un ultimo elemento prima di lasciarvi la parola per altre domande osservazioni che riguarda la modalità attraverso la quale ho avvicinato questa storia d'amore avevo davanti la cosa più ovvia un ragazzo e una ragazza ma c'era un piccolo gradino d'età che li separava e quindi ho immaginato una storia d'amore tra una ragazza trentenne e un ragazzo invece ventenne quindi una differenza d'età un po' inconsueta non così diffusa o forse non lo era oggi lo è sicuramente di più cioè dove la differenza d'età è sbilanciata in modo meno convenzionale diciamo di solito è l'uomo più adulto in realtà non è detto che sia strano e tantomeno lo è oggi però certo è che una distanza che sembra minima perché i due giovani di questo libro appartengono più o meno allo stesso solco generazionale non è che c'è una generazione che li divide ovviamente però avere trent'anni averne venti soprattutto oggi può essere diciamo può comportare differenze anche abbastanza radicali e quindi l'elemento che mi stava a cuore era vedere se in questa differenza d'età si trovava un modo per dire qualcosa del nostro tempo per dire qualcosa dell'incertezza del cambiamento delle categorie anche di pensiero della struttura mentale ed emotiva delle persone giovani che stanno attraversando questo tempo storico da un lato c'era una ragazza c'è una ragazza nata come me negli anni 80 e che quindi ha fatto in tempo a concludere la sua formazione scolastica entro il novecento più o meno io mi sono diplomato nel 2002 quindi proprio all'inizio del nuovo secolo viceversa il ragazzo nato negli anni 90 ha vissuto tutte le esperienze più decisive fuori dal secolo ventesimo e non è soltanto una questione di calendari è chiaro che tutto è arbitrario tutto quello che riguarda il computo del tempo la conta del tempo però ha un valore simbolico forte un passaggio tra un secolo e un altro e soprattutto mi pare che dietro quel valore simbolico ci sia anche una diversa percezione degli eventi voglio dire che la generazione nata negli anni 80 è l'ultima letteralmente l'ultima che ha fatto in tempo a svegliarsi alla coscienza prima che il ventesimo secolo fosse archiviato chi è nato negli anni 90 e chi è nato addirittura negli anni 2000 oggi siamo nel 2018 quindi chi è nato addirittura nel 2000 è maggiorenne appunto ne parlavamo un attimo fa ricordando un mio articolo di qualche settimana fa cosa che è abbastanza sconvolgente se uno ci pensa che questo secolo è diventato maggiorenne bene questi ragazzi nati negli anni 90 e negli anni 2000 del 900 hanno un sentimento direi molto opaco sentono verso il ventesimo secolo una distanza totale assoluta come se fosse un altro evo della storia mentre io ho fatto in tempo come molti della mia generazione a sfiorare le categorie che sono state centrali in quel secolo ho un ricordo che non so se è un falso ricordo ma anche i falsi ricordi a volte hanno una loro precisa importanza e cioè il ragazzino di sei anni che ero che vede le immagini della caduta del muro di Berlino è chiaro che in quella confusione non potevo decrittarle non credo e per quello vi dico forse è un falso ricordo magari qualcosa che si è sovrimpresso dopo però il fatto stesso che io riesca a mettere a fuoco a proposito di linea del tempo dove eravate tutti dove ero nel 1989 che quel 1989 ha un peso rispetto alla evoluzione di un percorso storico che frana letteralmente fa franare letteralmente le categorie del novecento vedete tutto questo sembra che sta fuori da un romanzo in realtà è letteralmente la cassa di risonanza in cui un romanzo si scrive e mettere a confronto un ragazzo e una ragazza che hanno una differenza da età minima significa mettere a confronto due modi diversi di stare al mondo quello del ventunesimo secolo che mi sembra molto mi sembra mi sembra di poter constatare insieme che è molto meno ancorato a precetti di natura ideologica a strutture religiose forti diciamo così a quella ormai si parlava fino a qualche anno fa di modernità liquida direi di modernità evaporata letteralmente perché a forza ad essere liquida è nel frattempo evaporata che è tipica delle strutture mentali dei ragazzi del ventunesimo secolo e diciamo una ragazza che ancora aveva cognizione di altro tipo di mentalità questo insomma mettendoli vicini mi fermo anche io dico troppo e non diamo spazio alle curiosità appunto siccome esistono delle curiosità di cui ovviamente sono ovviamente un assoluto una frase perché tu sei un fiume in pieno si vabbè poi tu mi hai dato molti spunti quindi mi devo fermare non ti offenderai no io volevo entrare un attimino anche per un curiosire un po' la gente le persone convenute allora tutta quella quella grossa introduzione che ho fatto io mirava a prevenire una vostra anche questo però è paternalistico però lo dico a prevenire una vostra un vostro una vostra sorpresa chiamiamolo così rispetto a questo romanzo perché di sorpresa ce n'è tante e quella più importante quella che ci sarà alla fine che spiega un po' il meccanismo non ve la dico ovviamente perché sarei veramente una persona spregevole vi dico però un'altra che sta nella prima pagina eh o che sta nella seconda sta dappertutto e che non è un romanzo scritto come scrivono le persone normali scusa che significa però teso come tecnica di scrittura allora dai allentiamo le come tecnica di scrittura non mettiamoci non ingestiamoci per favore persone normali è una battuta no? non è scritto come vengono scritti il 90% dei romanzi che escono oggi ok? che sono scritti per per distrarre per far passare quell'oretta quelle di 5 sovra no essendo un testo che lotta per spiegarci delle cose per dirci delle cose profondissime non ci si può aspettare che sia scritto come collodi voglio dire no? con in terza persona tranquilla come dicevo prima con un fraseggiare ipotattico tranquillo semplice no? no vi accorgerete quando entrerete già nelle prime pagine che avete uno shock e questo secondo me è salutare perché vi troverete come dire fuori del vostro centro di equilibrio e prima di riacquistarlo un attimino ci vuole un po' come nelle opere d'arte pittoriche qui abbiamo abbiamo l'amico Enrico Benaglia e questo lo sa bene lui poi nella sua opera si rifà in qualche maniera al surrealismo il surrealismo in qualche maniera è shock se non dà lo shock non è un'opera moderna questa sembra una frase fatta ma in realtà è una logica interna quello shock è necessario oggi nell'opera moderna altrimenti non entri nell'anima delle persone benissimo detto questo vado alla spiegazione di questo shock questo periodare questo eloquio che fra l'altro è molto piacevole apparentemente è estremamente difficile per quale motivo perché pur essendoci una prima persona che narra ci si accorge però non ci si accorge subito perché quando leggiamo un libro noi abbiamo di fronte il narratore che ci parla parla a noi noi non ce ne accorgiamo ma è come se ci fosse una bocca che articola le frasi e noi le ascoltiamo quindi lui si rivolge a noi l'effetto di straniamento che a me è piaciuto tantissimo di questo volume e di qui la tua genialità secondo me una delle più grosse trovate è questa che ci si accorge che non sta parlando con noi grazie che è il personaggio inventato da lui se tu lo gratti ti accorgi che sembra che parla in seconda persona parla a voi quando nomina i personaggi di cui sta parlando ma non voi lettori il lettore è escluso allora a chi parla sta grazia non parla a nessuno e questo ed è questo è sconvolgente forse tu non te ne rendi forse anche qui ti sembrerà un appiccicare concetti a qualcosa di cui tu non sei consapevole ma è chiaro che l'artista quasi mai è consapevole di quello che produce però un lettore si il lettore si accorge che questa voce che parla non parla a un lettore parla dentro di sé quindi abbiamo un narratore che non racconta niente a nessuno racconta a se stesso lui si limita a presentare a montare in termini artistici uno un cervello ti sta presentando di un cervello che pensa e tu entri in questo cervello perché questo si ricollega al discorso che facevo prima perché lui non può prendersi la responsabilità di narrare un mondo nessuno se la può prendere oramai può prendersi solo la responsabilità di farti vedere un cervello che cerca di organizzare il mondo che è completamente diverso e che è un'operazione modernissima che lui se ne renda o meno non è importante in questa sede l'importante è farlo notare e allora veniamo al dunque che cos'è in termini pratico quello che succede in quella pagina potrei leggervi alla prima pagina succede che manca l'interlocutore lettore viene abolito e viene totalizzato cioè reso completo e totale radicalizzato quello che in letteratura si chiama monologo interiore per quei pochi che sanno o per quei tanti che sanno e che hanno letto Jovis ma che hanno letto anche Virginia Woolf Dalloway e c'è tanti Schnitzler Sveco insomma ce ne so Mucchio nel novecento succede questa cosa che nessuno più si prende la responsabilità di narrare la realtà allora tutti si prendono la responsabilità di narrare il cervello che guarda la realtà quindi questo cervello che fa quando noi camminiamo per strada parliamo con noi stessi giusto non parliamo non parliamo a uno perché non ci sta ascoltando nessuno quando noi pensiamo lo scrittore lui acchiappa il suo personaggio e ti sbatte di fronte il suo cervello che pensa che pensa che cosa pensa alla storia d'amore che va raccontata lui non la racconta più è questo cervello che la racconta e come la racconta un cervello che pensa una storia in modo incasinatissimo perché noi quando pensiamo non ci sforziamo di farlo capire ad un altro quello che pensiamo lo sappiamo già quindi non è che ce lo dobbiamo comunicare o spiegare lo sappiamo lo ripensiamo a frasi mozzicate a pezzi a bocconi così come viene come si rende questo sulla pagina abolendo tutti le cosiddette legature cioè le virgolette l'interpunzione facendo come un blocco di parole che vengono una apprezzata dall'altra e tu entri in questo pensiero però nessuno racconta niente a nessuno e questa è una cosa genialissima perché Joyce l'aveva fatto mantenendo la terza persona Joyce l'aveva fatto mantenendo nell'ambito della terza persona il personaggio parlava agiva e però c'aveva pure il monologo interiore a pezzetti in Dalloway nel famoso romanzo di Virginia Woolf succede identica cosa c'è una terza persona racconta poi a tratti c'è il pensiero dei personaggi che va a ruota libera ma non c'è nessuno che fa un intero romanzo a partire dal dal monologo interiore cioè dal pensiero lui lui tenta questo in questo romanzo per questo mi è piaciuto perché è una cosa terribile perché è una cosa un po' folle che però ci sta scusa mi fermo qui potrei continuare ma mi fermo qui volevo rassicurare questo funziona volevo rassicurare sul fatto che poi così sembra ecco adesso funziona sembra difficilissimo da leggere poi in realtà tutto sommato spero che non sia così difficile entrare entrare ovviamente all'inizio non è non è non è semplicissimo perché devi fidarti di questa voce che ti sembra un po' strana un po' particolare poi se tu assecondi credo che a un certo punto entri in questo meccanismo che è giusto la definizione di radicalizzazione del monologo interiore è criticamente molto calzante voglio dire che provando a sciogliere alcune delle cose che sono state dette questo personaggio di Grazia che è una donna avanti negli anni quindi una donna adulta una donna matura che guarda questa storia d'amore appunto che legge la storia d'amore di questi due ragazzi è una spettatrice di quella storia d'amore e nello stesso tempo la narra quindi volevo però che la prospettiva su quella storia d'amore non fosse appunto la più ovvia racconti un ragazzo che si sta innamorando di una ragazza una ragazza che si innamora di un ragazzo ma che cosa vede della storia d'amore nascente tra due giovani una donna che non è più giovane che cosa significa quella lo spettacolo di quella giovinezza e naturalmente questo diventava quindi per me una sfida non da un punto di vista solo tecnico formale diventava una sfida anche perché dovevo uscire dall'età che ho anche dal genere sessuale cioè è la sfida di uno scrittore provare a pensare quello che può pensare una donna adulta che guarda due ragazzi che si stanno innamorando e che racconta appunto come dici tu la loro storia a nessuno o forse solo a loro due non certo a un pubblico non a loro due a nessuno proprio perché loro due non sentono loro due non sentono lei immagina forse di raccontarla a loro due ma non c'è nessuno hai ragione è come se fosse tutto dentro dentro la sua testa certo è perché quello che lei grazia pensa di ciò che sta accadendo a Nino e a Teresa questi due ragazzi appunto lei è l'insegnante di recitazione di Nino di questo ragazzo di vent'anni che è tornato da Londra dopo un'esperienza non così esaltante ed è la zia di Teresa appunto di questa ragazza di cui Nino si innamora quindi tecnicamente diciamo la trama è molto esile è quella di una storia d'amore che comincia quello che mi stava a cuore ecco per mettere in gioco magari anche dei temi oltre che delle strutture era il rapporto tra età della vita per esempio il fatto che questa donna non sente necessariamente come una come posso dire un fallimento alla fine della giovinezza percepisce che quell'età che i ragazzi hanno ancora davanti ai suoi occhi è un'età che non è che lei ha cancellato superandola ma che in qualche modo contiene e quindi sa qualcosa dei vent'anni forse più di quanto non ne sappiano loro che li stanno vivendo questo non dico che sia consolante non sempre lo è però certo ci dà l'impressione che la nostra età anagrafica è soltanto convenzionale non voglio dire che è una questione di giovanilismo ma che è molto difficile coincidere con l'età che c'è scritta sulla nostra carta d'identità perché superati i 18 anni non è vero che noi abbiamo solo l'età che c'è scritta lì noi abbiamo tutte l'età che contiene quell'età che abbiamo raggiunto e dico proprio perché non è consolatorio credo che in assoluto poter avere ancora 20 anni è un dato di fatto non è soltanto un'illusione è che quei 20 anni li conosci li senti li vivi ancora per certi versi perché ti hanno determinato perché credo abbiano anche un valore attivo a volte quando in un impeto magari di slancio di indignazione tu sei ancora anche quel ventenne che sei stato in questo senso un aneddoto che ho raccontato varie volte parlando di questo libro e che però condivido rapidamente anche con voi mi ha dato la misura di quello che io stavo facendo appunto senza saperlo ed è stato quando alla prima presentazione di questo libro l'ho detto in varie interviste e occasioni pubbliche l'inizio di questa storia è stato letto da un'attrice che forse conoscete che si chiama Piera degli Esposti che è un'attrice di teatro molto nota molto amata e io sono stato molto brava e io sono stato molto lusingato da questa lettura della prima pagina delle prime pagine però questo c'entra con la soddisfazione mia in realtà lei ha finito di leggere e poi ha raccontato era il marzo del 2016 quindi due anni fa ha raccontato al pubblico una cosa che gli era capitata poco tempo prima e cioè che era stata vedere a teatro e sarebbe stata quella una delle ultime apparizioni pubbliche di questo attore appunto Giorgio Albertazzi come sapete amato odiato discusso però insomma un protagonista assoluto della scena teatrale di mezzo secolo Albertazzi spesso portava in scena le memorie di Adriano come sapete e credo fosse le memorie di Adriano o qualcosa di simile dove in sostanza c'era lui in scena e poco più però in questa replica a cui la degli esposti aveva assistito Albertazzi manifestava un limite fisico avendo ormai 90 anni attraverso la sedia a rotelle su cui era seduto e quindi lei raccontava al pubblico dice ho provato un po' una stretta al cuore a vedere il grande attore bloccato da quel limite fisico poi però la cosa le passa perché lo guarda recitare dice l'energia di Albertazzi era impressionante aveva trasformato quella sedia a rotelle in un trono in qualcosa di regale di maestoso allora lei va dietro le quinte per salutarlo si conoscono da tanti anni e trova Albertazzi altro che distrutto dalla fatica come sa chi conosce gli attori gli attori diventano adrenalinici in un modo quasi febbricitante dopo che hanno fatto uno spettacolo magari prima sono completamente apatici ma dopo diventano una cosa elettrica perché si è caricata tutta l'energia possibile in loro e allora lui ringraziandola di quei complimenti dice ma sai che cosa ho pensato Piera che io e te dovremmo fare Romeo e Giulietta al che lei giustamente dice ma insomma forse non abbiamo l'età per fare Romeo e Giulietta tu hai 90 anni io ce ne ho 80 e lui risponde è proprio questo il punto sarebbe un Romeo e Giulietta straordinario io credo che lo sarebbe stato davvero se mai l'avessero messo in scena poi Albertazzi è morto dopo qualche mese ma quando la degli esposti ha raccontato questo ed è per quello che io spesso lo ripeto io ho avuto come l'illuminazione ho detto ecco il punto grazie a mettiamo 70 anni non le do un'età però mettiamo 70 anni quello che lei capisce della giovinezza quello che il suo cervello mette a fuoco per tornare a quello che dicevi tu è infinitamente di più di quello che i personaggi che stanno vivendo i loro 20 anni o 30 anni capiscono e questo creava per me come narratore un effetto assolutamente sconcertante in certi momenti perché pure avendo all'epoca in cui scrivevo mettiamo 32 33 anni quindi distante comunque dall'età di Grazia sentivo che c'era come quest'occhio distante che riusciva a vedere qualcosa che gli stessi personaggi non vedevano questo certo è un po' come dire anche magico nella scrittura non sai bene perché sta succedendo qualcosa ma vi assicuro che c'è stato un momento in questo racconto in cui ho capito che il modo di raccontare la giovinezza era ancora più preciso ancora più efficace proprio perché non assumeva la prospettiva dei giovani ma assumeva la prospettiva di chi la giovinezza appunto l'aveva superata e quindi finisco di nuovo la cosa che a un certo punto Nino il personaggio di vent'anni vede perché lui vi dico così queste piccole cose di trama tanto per darvi il quadro lui insegna teatro a un gruppo di persone adulte anziane quindi è un corso di teatro per anziani e deve insegnare quindi a persone che hanno molta più esperienza di lui non nel campo teatrale ma in generale nella vita e questo diventa naturalmente molto difficile perché lui prova in modo anche irruente a volte a dire qualcosa e si sente spesso anche un po' braccato dalle obiezioni dalla diffidenza anche normale che c'è da parte di una persona più adulta verso un giovanissimo tant'è vero che c'è uno degli episodi che ha più divertito i lettori in cui il signor Giancarlo uno degli allievi adulti dice a Nino ma Nino tu non sai chi è Salvo Randone e Nino dice no non so chi sia e lui allora gli ricorda questa cosa di Gasman e Randone che facevano Otello una sera uno faceva Otello l'altra sera uno faceva Iago e tu dici ma come fai a non sapere questa cosa ma è normale che Nino non la sappia però in qualche modo in questo diciamo così attrito fra generazioni c'è il passaggio di un sapere anche problematico quindi c'è tutto questo però c'è un momento in cui benché Nino sia profondamente stizzito in certi istanti dal rapporto con questa platea di studenti adulti ha una specie di visione e questa visione io l'ho avuta mentre scrivevo non è mistica è proprio vedere no ho detto ma adesso c'è Nino e davanti a lui c'è la signora Laura che ha 70 anni la signora Laura deve interpretare un personaggio che ha 20 anni secondo il copione e Nino pensa ma come fa una 70enne a interpretare una 20enne al cinema sarebbe impossibile a teatro no perché a teatro c'è una sospensione totale dell'incredulità tutto può accadere su un palcoscenico teatrale solo che Nino non è convinto di questo fino a che non pensa in questi termini guarda la signorina Laura e dice a se stesso certo che se tutte le età che abbiamo vissuto fossero visibili in noi in un solo istante sarebbe infinitamente più facile parlarsi tra esseri umani perché io non vedrei la signora Laura che ha 70 anni vedrei dentro la signora Laura la ventenne che quella signora Laura in qualche modo ancora è non è che è stata la contiene quella ventenne e tutto sarebbe più semplice quando ha questa visione dice ecco qual è il punto quella giovinezza di quella giovinezza la signora Laura sa molte cose più di me che la vivo ora e in questo senso teatralmente può portarla fuori anche se in modo dilettantesco goffo approssimativo quindi questa specie di girotondo dell'età dove nessuno ha l'età che è scritta solo l'età che è scritta dalla carta d'identità diventava narrativamente molto stimolante perché come tu giustamente dicevi dava l'impressione di poter braccare la realtà da una prospettiva come dire molto distante allo stesso tempo molto vicina appunto quella di una mente complessa come tutte le menti avanti negli anni ma incredibilmente giovane e non disposta come accade a volte in età adulta ad arrendersi al rancore o al risentimento verso la giovinezza degli altri cioè ha un rapporto alla fine positivo con la giovinezza degli altri chiaramente deve combattere a volte quel senso di disagio che provoca la giovinezza in chi l'ha superata però sa che quella giovinezza non è qualcosa che lei ha archiviato ma è qualcosa che la riguarda anche nel presente questo per quanto riguarda il rapporto tra le generazioni che è un tema che all'associazione 50 e più è un tema centrale della vostra politica in generale che è stata affrontata in sede sociologica economica e quant'altro poi c'è un altro aspetto sul quale vorrei porre l'attenzione del nostro autore e riguarda il rapporto che ha Nino il personaggio perché poi i personaggi centrali diciamo i protagonisti perché lì sono tre cioè Nino che ha 23 anni Teresa che ne ha 30 e Grazia che ne ha va bene una sessantina diciamo ecco e oltre questo questo problema che è stato secondo me in maniera bellissima chiarita da Paolo c'è un problema centrale che è il problema della mancanza di ogni assoluto da parte delle nuove generazioni da parte delle generazioni dei ventenni quella che lui chiamava la generazione dei millennium cioè di coloro i quali sono nati alla fine del millennio e all'inizio del nuovo il problema della religione e di Dio che non ne abbiamo parlato ma ha un peso notevole anche in termini di pagine quantitativamente questo problema rientra come come motivo fondamentale dei rapporti tra Nino che si è innamorato di Teresa e Teresa che si sta innamorando di Nino tra di loro viene inserita questa tematica dell'assoluto cioè sono uno il primo Nino completamente al di fuori è vissuto in un'atmosfera di funzionalismo assoluto cioè le cose esistono perché funzionano e perché sono riferibili a me e perché io le posso adoprare tutto è così il mondo diciamo esemplificando molto mentre Teresa essendo nata tra l'altro come vedrete a Terracina non a caso viene scelta questo paese Terracina Terracina è un paese diciamo abbastanza vicino a Roma però di provincia dai chi ci va a Terracina se non vuoi proprio andare a Terracina non ci vai devi proprio andarci perché ci devi andare non ci passi nemmeno ecco quindi il tipico paese di provincia nella provincia si presuppone ed è una supposizione secondo me azzeccata da un punto di vista narrativo se non altro si presuppone che lì i valori religiosi come nelle città di provincia ancora hanno radici perlomeno più forti che a Roma nella grande metropoli dove queste radici sono tutte frantumate eccetera e quindi questa Teresa che si sta innamorando di Nino è una persona stranamente tra virgolette molto credente ma credente in un modo vero cioè credente come potevano essere i nostri nonni o i nostri padri in qualche maniera sempre con le debite differenze perché abbiamo sempre a che fare con una ragazza di 30 anni nel 2000 però è sempre una persona che crede e che ha un profondo sentimento religioso non bigotto cioè nel senso che non segue tutte quelle che sono le ritualità della religione ma un sentimento di fede cristiana molto profondo e l'autore che ha la disperata ricerca non l'autore i suoi personaggi ma penso anche l'autore perché cioè per la proprietà transitiva non si scappa va anche lui è alla ricerca di un assoluto di qualcosa in cui credere in questo mondo frantumato che noi viviamo e benissimo questo tema viene affrontato in maniera molto molto forte diciamo molto significativa nell'ambito della storia d'amore ora come se ne esce la cosa che mi è piaciuta poi mi dirai la tua impressione è che in realtà non se ne esce cioè non è che l'autore o la voce narrante dell'autore parteggi per credere in Dio né pare che Nino uno dei due innamorati alla fine creda in Dio nella maniera più assoluta accade però che l'idea di Dio tradizionale abbia una declinazione nell'innamoramento stesso cioè pare quasi che attraverso l'innamoramento di questi due giovani scaturisca un barlume sfocatissimo di quello che poteva essere la fede religiosa nell'Ottocento perché nel raccontare le differenze tra loro due quelle di cui vi parlavo cioè quelle le dicevo in modo teorico cioè la ragazza che è cresciuta dentro l'ultimo segmento dei Novecento che ha respirato una certa aria che ha toccato sfiorato quantomeno certe categorie e il ragazzo che invece è fuori dalle dinamiche del Novecento questo però lo diciamo in termini come dire teorici poi in un termine solo narrativo poetico bisognava che ci fosse qualche cosa di molto diverso tra loro che fosse anche un ostacolo all'inizio di una storia d'amore d'altra parte quando comincia una storia d'amore noi siamo forse al momento in cui la nostra curiosità è al grado più alto e i nostri pregiudizi sono al grado più basso mentre per il resto della vita siamo invece come dire quasi obnubilati dai pregiudizi nei confronti degli altri dell'altro del diverso nel caso di una storia d'amore saremmo disposti a mettere da parte tutte le nostre ansie prevenzioni eccetera e allora volevo che ci fosse in gioco tra loro due qualcosa che non era facilmente maneggevole in qualche modo appunto proprio perché non volevo parteggiare né per il mondo dei credenti né per il mondo dei non credenti volevo soltanto mettere di fronte una ragazza che crede come dicevi tu crede in questo tempo quindi non è che crede in un modo bigotto ottuso e un ragazzo che invece non è che tanto che non crede rifiuta completamente l'idea di porsi il tema della fede anche questo l'ho detto in qualche intervista ma poco dopo l'uscita del libro è uscito un volume dal mulino che si chiama piccoli atei crescono che è la più ampia indagine demoscopica sul campione in Italia 18-24 anni e dà dei risultati abbastanza spiazzanti cioè l'80% dei ragazzi italiani non è che dice di non credere dice di non porsi il tema della fede che è molto diverso quindi significa non una professione d'ateismo militante o di agnosticismo consapevole significa proprio di non accettare certe come dire categorie convenzionali rispetto a un rapporto con la spiritualità che il giovane italiano di oggi tende a gestire in un modo molto personale non credo che i ragazzi di vent'anni non abbiano la loro spiritualità ma non accettano che sia condizionata da nessuno almeno in questo pezzo d'occidente allora che succede quando una ragazza che crede incontra un ragazzo che non accetta di aprire quella porta sul tema della fede questo volevo vedere ecco perché tutto diventa problematico e niente si risolve facilmente finisco dicendo che c'è un momento in cui la fede di Teresa vacilla ed è una fede pura una fede trasparente una fede che io ammiro molto comunque non so di non essere né all'altezza di quella fede né di essere riuscito a preservarla in qualche modo quindi mi sento a metà tra i due personaggi ecco però so pure che quando la fede di Teresa vacilla per paradosso imprevedibile è nino ad avere uno slancio stranamente spirituale cosa che appunto accade anche in temperamenti che sembrano negarsi alla prospettiva della fede c'è una una parte del libro verso il finale senza dire ovviamente come si chiude il libro che riguarda una chiesa di Roma in cui credo che questo libro sia nato questa chiesa è Santa Maria della Vittoria che è in via 20 settembre come sapete che è una delle più belle chiese barocche di Roma ma all'interno c'è soprattutto quest'opera d'arte che è l'estasi di Santa Teresa di Bernini che ha un suo ruolo all'interno del libro perché l'ha avuto nella gestazione del libro cioè io mi sono trovato in quella chiesa in un pomeriggio d'estate e non avevo percezione del fatto che se mi fossi seduto un po' più avanti ero entrato lì per prendere un po' di fresco per vedere una chiesa che non conoscevo bene eccetera il fatto è che mi ero seduto a metà della navata centrale non avevo visto o non avevo ricordato che c'era poco più avanti l'estasi quando sono tornato a vederla perché in quella chiesa mi era venuta come una scena del libro che poi è quella in cui Nino vede Nino in una cerimonia di parenti in un battesimo una cosa del genere vede Teresa in chiesa e quindi comincia a chiedersi che c'entra Teresa con questo mondo che appunto lui rifiuta poi quando sono tornato a vedere l'estasi di Santa Teresa una delle cose che mi hanno più colpito è il cartiglio che gli angeli tengono in mano ed è un cartiglio in latino che è una frase che Gesù dice ovviamente nel racconto allegorico anche a Santa Teresa e cioè se non avessi creato il paradiso lo farei ora solo per te che è una bellissima dichiarazione d'amore quando ho letto questa frase ho detto ecco qual è il punto qui questi due devono innamorarsi perché innamorarsi è letteralmente un atto di fede chiunque sia stato innamorato di qualcuno ha pensato se non ci fosse il paradiso adesso lo creo solo per te cosa che naturalmente è fallimentare impossibile ma il fatto di poterlo pensare per qualcuno è la certificazione del fatto che una storia d'amore nasce come una scommessa al buio così come un atto di fede devi fidarti necessariamente fidarti e questa cosa Nino la impara e quindi imparandola in quel momento magari davanti a quel cartiglio ho scritto una scena proprio giocata tutto su questo sente che in fondo non è soltanto la spiritualità convenzionale a governare le nostre vite è una forma di spiritualità che ci fa effettivamente uscire da noi stessi anche semplicemente quando ci innamoriamo assolutamente io direi direi una parola ai presenti anche ai presenti di questo tavolo volevo fare una domanda a Paolo di Paolo al prima della domanda tranquillizzare tutti perché io non ho né sono un critico letterario né ho la capacità di scrivere ma mi sono ho letto e nelle prime pagine ho avuto quella difficoltà che Paolo raccontava che Sandro raccontava perché è particolare come romanzo quindi l'invito che faccio a tutti quanti è di superare quel momento perché è un momento che ti prende perché ti potrebbe portare pure all'abbandono invece torna indietro no io racconto quello che ho vissuto torna indietro rileggi quelle pagine perché poi dopo eravamo bellissimi non voglio poi raccontarle a loro però è poi anche nella trama del romanzo quindi tornate indietro ricominciate e sarete appassionati dal libro in una parte del romanzo parli o meglio non lui però vengono raccontate proprio in questa situazione in queste due figure vicine alla fede che vivono la fede e che non vivono la fede c'è la figura il passaggio dal Papa Ratzinger al Papa Giovanni a Papa Bercoglio Francesco mi sono domandato a me e adesso lo domando all'autore è soltanto perché è attualità e quindi era in una cornice dell'attualità o come forse immagino e ho sentito poi dalle parole è anche figure che poi dopo vengono specialmente da Teresa forti e che poi dopo pure alle generazioni perché oggi chi è che parla come la generazione o di prima del 2000 o dopo del 2000 se pensiamo sono passati dagli anni da quando hai scritto però forse l'unico che parla realmente ai giovani è Papa Bercoglio quando ho scelto l'ambientazione che volevo fosse effettivamente vicina quindi un anno molto molto vicino alla scrittura ho selezionato diciamo così il 2013 anche per quel fatto lì non ero sicuro di utilizzarlo però a un certo punto mi sono ricordato non tanto dell'elezione del nuovo Papa io tornavo da Milano quindi quella sera che poi c'è stata la cosiddetta fumata bianca l'ho saputo guardandolo su un iPad cercando di connettermi così nella altalenante connessione del Frecciarossa ma mi ricordo invece la mattina in cui è arrivata la notizia delle dimissioni di Benedetto XVI e quella notizia che inizialmente mi sembrava surreale cioè io ho sentito qualcuno ha detto sei dimesso il Papa non è una cosa che non sta in natura nel senso che non è credibile mi sembrava una cosa ridicola ma provavo a collegarmi quella mattina mi ricordo e la rete era intasata quindi non riuscivo a vedere Repubblica veramente la cosa mi aveva un po' sorpreso era una giornata strana di febbraio lattiginosa un po' fredda e mi sembrava surreale la dimensione di un Papa che nel pieno del suo mandato diciamo così di Pontefice a vita appunto ecco allora quella cosa lì che poi tutti abbiamo metabolizzato e tutto sommato oggi ci sconvolge molto meno di quanto non ci sconvolgesse cinque anni fa credenti e non credenti era una cosa abbastanza epocale radicale che quando uno dice qualcosa che fa la storia a volte siamo un po' enfatici questo è veramente un passaggio storico quella cosa lì cambia completamente lo cambierà perché noi non ci saremo nemmeno più ma nella storia dell'evoluzione di una storia di una religione è uno dei passaggi più importanti decisivi una frattura incredibile bene quel momento lì l'ho sentito come un momento di smarrimento complessivo di una comunità e però superando lo smarrimento anche al netto di certe interpretazioni oggi molto polemiche che si danno di quel gesto o molto vincolate proprio all'attualità spicciola mi sembra che ci fosse invece qualcosa di non so come dire profondamente drammatico cioè qualcosa per cui quella tensione è il papa che dice che non si sente all'altezza di qualcosa ecco questo mi è sembrato così forte da dover inserire dentro al romanzo almeno un passaggio che poi portava naturalmente direttamente per forza alla giornata in cui è stato eletto nel marzo 2013 papa Bergoglio però non volevo tanto sai perché nella veloce scena che io dedico a quella cosa Bergoglio sorprende solo perché è un papa che viene come disse lui quel giorno dall'altra parte del mondo ma non potevamo sapere sì certo disse se vi ricordate buonasera che era una cosa che lì per lì spiazzò anche quella perché era proprio fuori dalla forma canonica però per conoscerlo poi ci è voluto un po' di tempo chiaramente quindi io dovevo essere fedele vedete quando uno scrive un romanzo per quello di quel presente può portarti fuori strada perché tu cominci a sovrainterpretare o a leggere gli eventi con la posteriori io invece volevo che quella ragazza si trovasse lì in piazza San Pietro che quel papa dicesse buonasera e che per lei fosse strano ma non più di questo ma che soprattutto fosse rimasta smarrita disorientata dalle dimissioni del pontefice precedente e che quello smarrimento avesse a che fare con un sentimento di una fede diciamo così che è la fede nei nostri tempi una fede che comunque necessariamente forse è più fragile più incerta meno assolutista ecco allora diciamo quando tu scegli di ambientare un romanzo dovresti trattare tutto come se stessi facendo un'operazione da romanzo storico anche se è l'altro ieri provando a prendere dei dettagli calandoti nella dimensione di quell'istante senza sovrainterpretare però è chiaro che c'era anche questo per finire anche su questo punto la cosa di papa Bergoglio che tu dicevi cioè quello che oggi abbiamo capito di Bergoglio non era facile capirlo da lì non era facile capirlo dal 2013 ma certo il fatto che fosse un papa che veniva dopo un papa di missionario comunque dà la dimensione di un cambiamento anche soltanto nella gestione pratica di un ruolo che perdeva nel fatto stesso di essere come dire segnato da quelle di missioni perdeva quasi istantaneamente la solennità che invece aveva avuto nei secoli precedenti volevo fare una domanda volevo fare una domanda diciamo più semplice però coglie un aspetto che sicuramente colpirà i lettori cioè la tecnica con cui è stato scritto questo romanzo che non è consueta banale nel senso che lo vedrete anche anche adesso sfogliandolo aprendolo vedrete che lui scrive una pagina e mezza due pagine e mezza e poi si ferma si ferma a metà pagina c'è la mezza pagina bianca anche tre quarti quasi tutta la pagina bianca si ferma accanto riprende il racconto ma non c'è un titolo sembra come non esserci una continuità io ho avuto l'impressione che lui abbia fatto abbia scritto il romanzo come un pittore e qui c'è Enrico che è un grande maestro come un pittore fa un quadro che una mattina si alza o una sera magari ha l'ispirazione si mette davanti la tela fa dà delle pennellate ha in mente più o meno un quadro generale di quello che vuole rappresentare dà delle pennellate poi o si stanca o gli finisce l'ispirazione si ferma e lascia lì il giorno dopo magari due giorni dopo tre giorni dopo quando gli riprende un po' la voglia si riavvicina alla tela in questo caso alla carta non so magari lui a giorni l'avrà scritta al computer immagino ormai lo scrittore che scrive con la penna e la carta forse non esiste più ma insomma lui ritorna e scrive un altro pezzo e quindi alla fine sono come tante pennellate che lui scrive una dopo l'altra e non gli dà un titolo che spesso i libri sono anche divisi in capitoli che però hanno dei titoli anzi spesso sono perfino numerati sono pure numerati primo, secondo, tempo e poi c'è il titolo le cose no niente di tutto questo tra l'altro sarebbero infiniti perché io non li ho contati ma saranno 50, 60 diciamo chiamiamoli impropriamente capitoli perché normalmente non scrive quasi mai per più di due pagine e mezzo di seguito ma spesso anche molto meno quindi ecco questa cosa mi ha colpito e volevo chiedergli come come gli è venuto in mente come l'ha trovato che stiamo raccontando un romanzo che sembra così veramente stranissimo che in parte forse in parte forse lo è ma credo meno tutto sommato di quanto non sembri dal racconto però anche questa scelta di fare dei brevissimi capitoli è stata determinata da intanto diciamo dalla complessità della prospettiva se avessi fatto visto che sono blocchi molto densi se avessi fatto tutto un continuum sarebbe diventato forse ancora più difficile entrare diciamo in questa dimensione e poi perché ragionavo proprio sulla possibilità di dare al romanzo un ritmo come se fosse di piccole scene quasi concluse ciascuna in se stessa e che la come dire la somma di queste piccole scene poi effettivamente restituisse un quadro tutto perché poi effettivamente grazia rispetto a quello che diceva Sandro all'inizio ricorda qualcosa mette a fuoco qualcosa cioè il suo modo di procedere è anche nell'intermittenza del suo pensiero quindi nel momento in cui non so dice eravate bellissimi soprattutto verso sera parla a quel gruppo di ragazzi a cui ha fatto l'insegnante di recitazione poi magari due tre pagine dopo si ricorda una cosa che ha detto Nino una volta a lezione e allora in questo assecondare diciamo così il movimento del suo racconto interiore ho pensato di costruire delle piccole scene però devo dire un'anticipazione di una cosa che magari sbaglio a fare ma proprio perché so che ha spiazzato anche questa paragrafazione nella così ricezione dei lettori adesso esce in Francia questo libro all'inizio di marzo e ho chiesto al traduttore francese magari ho sbagliato ma non so perché queste cose si modificano dopo però di di non andare a pagina nuova ogni capitolo capitoletto ma di lasciare mettiamo tre o quattro righe di continuare in modo non lo so se è un errore fatto è che gli ho detto al traduttore francese che visto che in Italia il libro era stato come dire reso più difficile soprattutto nella prima parte da questa intermittenza magari proviamo in Francia che succede a vedere se diciamo così nel flusso forse mantenendo la pausa però non andando a pagina nuova una pausa comunque non di due righe una pausa abbastanza consistente ma che dà l'impressione che ci sia una continuità però questo appunto vedi sono tutti esperimenti che uno fa per cercare di rendere la vita più facile al lettore perché una cosa che voglio dire così resta agli atti anche rispetto alla registrazione non sono di quegli scrittori che vogliono complicare la vita al lettore anche se oggi forse è sembrato cioè se il mai non mi piace quella letteratura che non chiede al lettore uno sforzo il che non significa che tu al lettore gli devi fare fare un tour de force perché già nella vita è abbastanza faticosa e non è detto che appunto devi scrivere l'ulisse per distruggere la giornata al lettore non mi piace quella letteratura consolatoria che si limita a essere di intrattenimento non lo dico in modo snobistico ma credo veramente che se uno deve fare una letteratura di intrattenimento sta mettendosi in competizione con forme di intrattenimento infinitamente più sofisticate penso alle serie tv penso insomma lo fanno molto meglio l'intrattenimento allora uno scrittore che cosa può fare può chiedere al lettore di fare uno sforzo con lui e questo sforzo deve essere incontrarsi a metà strada ovviamente quindi io penso magari di aver scritto libri abbastanza spiazzanti tutti e tre questi romanzi questo ci aveva dentro delle immagini dei ritagli di giornale mandami tanta vita era particolare nella prospettiva su questo personaggio su Piero Gobetti questo è fatto così ma ogni romanzo dovrebbe essere questo tentativo di alzare un po' la posta in gioco non di rendere più difficile credo anzi e finisco che uno scrittore che riesce ecco perché credo che uno scriva il libro successivo se no uno dice vabbè perché provi a fare in un modo più trasparente quello stesso sforzo che hai fatto o che hai chiesto di fare al lettore magari rendendogli la strada un po' troppo in salita un grande scrittore un vero grande scrittore è quello che riesce a mantenere densità diciamo così sia strutturale che contenutistica senza rendere difficile la vita al lettore ma dandogli l'impressione che ci sia una profondità vera ma credo che sia qualcosa che magari a volte riesce al primo libro altre volte riesce magari al quinto o sesto libro di essere semplice c'è una metafora la dico in 30 secondi che ha usato Raffaele Lacapria che è uno scrittore che vive non molto distante da qua un grande scrittore che oggi ha 90 penso che vada per i 94 eccetera una volta lui ha definito il punto d'arrivo di uno scrittore lo stile dell'anatra e cioè lo stile dell'anatra quando la vedi praticamente scivolare sull'acqua e ti sembra che quel gesto sia di un'eleganza assoluta ma sotto le zampe si muovono vorticosamente ma tu non le vedi allora giustamente dice Lacapria uno scrittore dovrebbe dare questa impressione di muoversi con disinvoltura dopo aver fatto un lavoro fortissimo sotto allora penso che l'aspirazione dovrebbe essere quella di riuscire a realizzare magari prima o poi uno ci riesce a essere ancora più preciso in questo dare al lettore un contenuto che abbia una sua profondità una sua necessità facendogli fare meno fatica di quella che tu hai fatto per arrivare a quel risultato questo dovrebbe essere un po' la mediazione però sono convinto che la letteratura debba comunque se vuole sopravvivere anche nel piccolo provare a essere un po' più provocatoria e quindi anche nella forma può provocare qualcosa anche quello shock iniziale però quello shock ti fa saltare sulla sede dice oddio che cos'è è vero che c'è il rischio che puoi abbandonare però ma io accetto anche che uno abbandoni e dica vabbè magari ci torno un'altra volta oppure salto piuttosto però che invece avere davanti un oggetto che non suscita niente insomma che lascia che interrompo perché volevo dire un'ultima cosa e poi volevo lasciare la parola a qualche intervento della platea perché mi sembra giusto e doveroso la domanda è il problema posto dal nostro presidente è un problema molto importante secondo me no? come è importante il tuo suggerimento che hai dato al tuo al tuo editore francese o a quello che cura il tuo testo in Francia che lo traduce perché lo stacco cioè secondo me questo sistema che tu hai fatto in Italia che hai adottato in Italia somiglia ancora troppo a un capitolo è certo somiglia ancora troppo e nel e nel flusso di coscienza stiamo rappresentando un cervello che pensa liberamente e a scatafascio in maniera così senza leggi il capitolo non c'è perché non c'è nessun nessun lettore che mi deve leggere che gli dico adesso arriva il capitolo 1 e te lo scrivo è una mente non si pone il problema del capitolo perché non comunica e quindi è sbagliato proprio lo stacco eccessivo quindi giustamente vediamo che con i francesi allora no 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 dal mio punto di vista che è coerente con quello che dicevo all'inizio e quindi la capitolazione è un non senso nel flusso di coscienza è un non senso quindi giustamente va ridotta anzi vediamo dai poi ti farò sapere il punto d'arrivo di questo processo che lui ha iniziato che secondo me è la cosa più geniale del libro scusate io mi allargo il punto finale Beckett dove il flusso di coscienza comincia nell'innominabile comincia a pagina 1 e finisce a pagina 300 e non c'è stacco non c'è niente è proprio vum ecco